Buona giornata amici da Massimo Foghetti, eccoci di nuovo qui per la rassegna stampa di questa mattina, oggi è mercoledì 5 gennaio 2022, il sole sorge alle 7.41 e tramonta alle 16.45. Vediamo il santo di oggi, è un santo particolare, piuttosto recente, vissuto nel XIX secolo, si tratta di San Giovanni Nepomuceno Neumann, un santo che è nato in Bohemia, che allora faceva parte dell'impero austro-ungarico, si fece sacerdote nel 1835 e andò in missione in America, dove operò molto a New York e lavorò molto anche tra gli immigrati, poi siccome parlava otto lingue, ciò lo rese molto popolare appunto come predicatore, fece parte della congregazione dei redentoristi e diventò vescovo di Filadelfia. Fu dichiarato santo da Paolo VI il 19 giugno del 1977. E diamo un'occhiata ora alle previsioni del tempo, vediamo che la situazione meteorologica si va complicando, abbiamo ancora delle temperature piuttosto alte a paragone della stagione, comunque l'avvio della giornata è variabile, ma con tendenza a un peggioramento nel pomeriggio in Appennino, soprattutto con fenomeni in locale estensione poi altrove. Le temperature caleranno, magari poter usufruire di questo caldo di questi giorni e comunque varieranno tra i 9 e i 12 gradi. Cominciamo oggi la nostra segna stampa a partire dal Corriere Adriatico, vediamo subito la pagina di Fano, dove l'apertura è dedicata ad un personaggio molto noto, purtroppo deceduto, l'abbiamo perso. Si tratta di Franco Battistelli, che ha lasciato come eredità al comune di Fano 4.000 libri, un patrimonio destinato alla Biblioteca Federiciana. È una collezione di grande valore, a oltre un anno e mezzo dalla morte, però ancora non c'è stato il trasferimento. La donazione è stata tenuta riservata, finora nonostante facesse parte del testamento di Franco Battistelli, che il notaio Alfredo De Martini ha pubblicato dopo la sua morte, avvenuta il 24 maggio del 2020, all'età di 86 anni, che avrebbe compiuto il 14 novembre, dandone comunicazione alla famiglia e all'amministrazione comunale. Il ricordo di Franco Battistelli commuove un pochino tutti i fanesi, perché moltissimi l'hanno conosciuto. Era un grande uomo di cultura, ma un grande anche uomo di disponibilità amico di tutti. È rimasta finora lettera morta la richiesta di conservarne la memoria nel famedio. C'è una richiesta sostenuta da 300 firme, tra cui quelle delle associazioni culturali e sociali, appunto per conservarne la memoria, insieme a quella di Alberto Berardi, scomparso a sua volta nel 2020, il 18 marzo, due mesi prima di Franco Battistelli. Le loro memorie dovrebbero essere conservate, secondo questa richiesta, nel famedio del cimitero di Via Giustizia, ovvero la Casa degli Uomini Illustri. La seconda pagina dedica invece l'articolo di apertura ad una notizia di politica. Si è costituito formalmente il 31 dicembre scorso ed è stato presentato ieri il gruppo consigliare di Azione più Europa, l'Anima Critica, intitola il Corriere Adriatico del centro-sinistra. È un'iniziativa dei consiglieri comunali Stefano Marcheggiani e Cora Fattori e ieri alla presentazione è apparso anche il segretario nazionale della Forza Politica, Benedetto della Vedova, insieme con l'apparizione virtuale del senatore Matteo Richetti, insieme poi ai coordinatori regionali, provinciali, insomma tutti coloro che hanno dato la loro benedizione alla costituzione di questo nuovo gruppo che è il secondo, dopo quello di Palermo, che si è costituito all'interno di un consiglio comunale a livello nazionale. E poi vediamo quali sono gli intendimenti, vediamo cioè chi leggerà l'articolo, io non ve lo posso leggere tutto, quali sono gli intenti di questo gruppo politico che si avvale di un mix di competenze tra cultura e tecnologia. Infatti Stefano Marcheggiani ha avuto la delega di interessarsi soprattutto del teatro romano ma si interesserà anche dei liti del Sant'Arcangelo mentre Cora Fattori si occuperà dell'efficientamento e in modo particolare delle tecnologie applicate anche all'edilizia e all'espansione urbana. Nello staff del sindaco entra al fano di noi giovani un turnover nel gabinetto appunto di Massimo Seri. Esce di scena Elisa Bilancioni che ha dato le sue dimissioni per ragioni personali, strettamente personali ed è entrato appunto Domenico Alfano già portavoce e comunque elemento di riferimento della lista di maggioranza noi giovani e poi anche Giulia Coniglio. Insomma due entrate che rafforzano lo staff del sindaco cioè i maggiori collaboratori. Un articolo di Spalla ci comunica che da ieri è possibile presentare le iscrizioni alle scuole dell'infanzia sia agli asili nido che alle scuole materne ma per il momento gli open day verranno fatti soltanto in via virtuale cioè entrando sul web dal sito del comune di Fano. Al via gli attesi oggi i saldi stagionali ma c'è un'atmosfera di crisi e lo evidenzia con pessimismo Marco Arzeni che è il direttore della Confcommercio di Fano. Sono poche le aspettative dice chiuderanno altri negozi insomma i saldi che non risolleveranno la sorte e le aspettative dei commercianti fanesi che versano in condizioni piuttosto critiche nonostante il covid, no appunto per il covid e poi anche per la crisi endemica che perdura da diverso tempo. Un edocufilm è un libro sulla storia di Metauriglia. Lo annuncia questo articolo firmato da Osvaldo Scatassi. Ad aprile debutterà la festa del cavolo tra tradizione e sviluppo. Una nuova iniziativa che ricorda come Fano era famosa un tempo ma non molti anni fa per la produzione dei cavoli tanto che li esportava in tutta Europa. Il cavolfiore tardivo appunto di Fano che doveva così invadere i mercati alla fine di febbraio, marzo insomma quando i mercati tradizionali del cavolo ormai erano esauriti. Vediamo anche la pagina di Senigallia dove un articolo riguarda dei provvedimenti che si appresta a prendere l'amministrazione comunale. Il titolo verde è sulla scuola di Montignano che verrà appunto presa nel 2024. E poi c'è anche Viale Anita Garibaldi che è il più atteso. Tra le priorità c'è la sistemazione di Via Gerardi dove spesso i pedoni inciampano sui San Pietrini sconnessi. Il cantiere più atteso però è quello di Viale Anita Garibaldi. E poi c'è la nuova scuola di Montignano prevista per il 2024 mentre l'attuale plesso scolastico verrà messo in sicurezza per essere nel frattempo utilizzato. I prossimi obiettivi poi di Senigallia riguarderanno sia il vecchio edificio della Puccini e il nuovo polo della Marchetti alle Saline. Tra le new entry nelle strade da sistemare compare Via Gerardi che collega il corso 2 giugno a Piazza Garibaldi. E veniamo ora anche alla pagina di Urbino che parla di sanità. La pagina di Urbino. Reparto Covid riaperto in ospedale. Insomma questo reparto si chiude, si riapre, si chiude di nuovo. Colpa delle carenze organizzative. Arrivano sette eletti. Il Partito Democratico attacca Lafoschi e Gambini. Zero peso specifico, afferma l'opposizione Erossini della Nao. Era prevedibile. La Nao è appunto il sindacato. Aperto, chiuso e riaperto. Tutto nel giro di dieci giorni. Reparto Covid a Urbino. Il Corriere ne è dato notizia raccogliendo le frustrazioni del personale sanitario. Noi burattini, ma c'è chi non sa muovere i fili, hanno detto appunto coloro che lavorano all'interno di questi reparti. È un po' come il gioco delle tre carte. Al banco c'è l'ospedale ducale di Santa Maria della Misericordia. Un giorno Covid, un altro no Covid, un altro ancora solo emergenziale e temporaneo, appunto con i suoi operatori sanitari che devono giostrarsi, devono appunto barcamenarsi tra queste alternate disposizioni. E poi Gambini ha deciso tutto. Le scuole chiuse venerdì e sabato. La decisione coinvolge anche l'asilo tartaruga. Così evitiamo i contagi. Vediamo poi anche in altre parti del giornale come alcuni direttori, come alcuni presidi prolungano le vacanze fino al 10 di gennaio, anziché riaprire il 7, come dovrebbero fare un po' tutti. A Monbaroccio il borgo risale a misura d'anziano, puntando sui giovani. È il mix giusto, lo ha detto il sindaco Petrucci. Riqualifichiamo il polo scolastico a Villa Grande per trattenere in sede le famiglie. E guardare un po' il futuro, la filosofia del sindaco, lo vediamo qui in mezzo agli studenti, che cerca di valorizzare due generazioni distanti tra loro, ma complementari, come quella degli anziani e quella dei giovani. E ora passiamo alle notizie di Pesaro, sempre sul Corriere Adriatico. E vediamo appunto come il ritorno a scuola è sul filo del rasoio. Tre comuni rinviano. Le Marche, tutta la regione, riapre il 7 di gennaio, ma Urbino, Tolentino e Petriolo posticipano al 10. L'Omicron supera il Delta, come diffusione di questa variante, nel peso della distribuzione delle varianti in regione. Chiesto dalle regioni un nuovo protocollo, soprattutto per gli studenti, per cercare di salvare l'anno scolastico. L'ultima mutazione del virus rovesce il rapporto dei contagi. Ora è 60-40. Per noi quarantene azzerate, le regole per ora non variano classe a casa con un positivo. Lo dice il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Ugo Filisetti, di cui qui abbiamo una intervista in cui si evidenziano diversi argomenti. E mentre la pandemia dilaga e i problemi incombono, però si guarda anche un po' al futuro. Ci sono soldi a disposizione e quindi si fanno investimenti. Fuori dal centro storico, bazar, empori e low cost a Pesaro. È una nuova regolamentazione delle attività per quanto riguarda il centro storico. Per quanto riguarda le attività del centro storico, c'è una maggiore tutela degli assi secondari in prossimità di edifici storici, culturali come chiese e musei, nelle strade, comprese tra via Branca e via San Francesco, Corso 11 settembre, via Cavour e via Mastro Giorgio, non verrà dato il permesso a negozi come empori, bazar e rivendita di prodotti o abbigliamento di catene low cost, se invece all'artigianato artistico, prodotti tipici e non gastronomici del territorio. Queste sono alcune delle novità che si preannunciano per Pesaro e c'è anche la possibilità per le vetrine sfitte di un accordo tra commerciante e gestore perché ci sia un canone temporaneo che permetta la sola esposizione di prodotti o merce, cioè anche se il locale non viene occupato dal negozio, la vetrina può fungere appunto da esposizione. E poi ci sarà un ingresso agevolato in centro per quanto riguarda le start-up innovative e l'imprenditoria femminile. Si cerca di agevolare l'imprenditorialità dei giovani e delle donne. Il rischio però è perdere i clienti perché veramente la situazione è difficile, soprattutto non solo per il Covid ma anche per il rincaro delle bollette. Vediamo questo articolo che parla di diverse difficoltà del commercio, che abbiamo la testimonianza di alcune esponenti appunto dei negozianti. Lidia Zucchi del negozio e ristorante, la chiccoteca e l'imprenditrice Carla Mascitelli. Tutti ci auguriamo che Governo e Regione intervengano come aiuti al più presto. Vola con il suo scooter e muore. Si tratta di un lutto che ha dedicato grande commozione e impressione a Pesaro. È morto Alex Eusepi. Aveva solo 38 anni. Era consigliere di quartiere, molto occupato anche nell'associazionismo. L'altra notte era uscito dal circolo Mengaroni e tornava a casa con il suo motorino. È caduto, forse un malore. Sarà disposta l'autopsia. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e probabilmente o il pavimento scivoloso oppure un malore ha provocato questa caduta che è risultata fatale per il vigile del fuoco. Si è sempre affermato per la sua professionalità e appunto una testimonianza di chi lo ha conosciuto. E poi ancora il suo impegno e la sua passione saranno sempre nei nostri cuori. È il ricordo commosso del sindaco Ricci, poi di Vimini e Perugini e la voce degli amici. Tornano a crescere imprese e occupazioni. Adesso è il momento di accendere i motori. Lo afferma il consuntivo che ha fatto ieri il responsabile della CNA Moreno Bordoni. Il bilancio dell'associazione di categoria per il 2021 è confortante, ovvero il bilancio dell'anno trascorso. Dobbiamo rendere strutturale l'indubbia ripresa. Il trend è piuttosto consolante, lo vediamo in questa tabella. 34.319 è il numero delle imprese attive nel 2021, che erano invece 34.125 nel 2020, quindi c'è stato un aumento dello 0,6% in crescita. L'export è di 2,2 miliardi di euro contro l'1,7 del 2020, quindi una crescita sostanziale, più 26%. In modo particolare l'export della meccanica rappresenta il 66,9% dei prodotti venduti oltre confine. Le assunzioni. 20.989 al secondo trimestre del 2021 contro gli 11.683 dello stesso periodo del 2020. Gli abbonati in banda ultralarga, 19,3%, contro una media regionale del 18,99%. Anche qui c'è quindi un piccolo ma significativo sviluppo. Violano la quarantena, denunciati due furbetti. Le verifiche eseguite nel periodo estivo. Ieri la prefettura di Pesaro Urbino ha fatto un bilancio delle ultime operazioni che riguardano l'ordine pubblico. Sono stati fatti molti controlli, combinate anche diverse multe. Le verifiche eseguite nel periodo estivo. Tanti sono stati sorpresi senza il super green pass. Elevate nel complesso 180 multe che riguardano 149 cittadini e 33 locali pubblici. Il prefetto Ricciardi chiede ai sindaci di non abbassare la guardia perché insomma siamo ancora in un periodo molto difficile per quanto riguarda appunto l'epidemia. Diamo un'occhiata ora al resto del Carlino. A partire dalla pagina di Fano, vediamo di trovarla, eccola qua. E vediamo come ancora campeggia la polemica per quanto riguarda il nuovo grande cantiere della Wider che dovrebbe essere realizzato nel porto di Fano, nell'area che faceva parte di Marina Group. Il cantiere Wider si mangia la strada, così sarà impossibile varare. Lo dice Achille Salvadore della Multinautic. Il Comune ci pensi o a Marina dei Cesari non resterà nessuno. Il Comune deve almeno allargare, secondo questo operatore della cantieristica, di almeno 5 metri la strada. Si tratta di via Pilo Biancalana per arrivare al porto turistico, altrimenti le imbarcazioni di 34-35 metri non potranno più varare nello scalo di Marina dei Cesari. Attualmente le imbarcazioni continuano a transitare per la vecchia strada, chiedendo ogni volta l'autorizzazione per il passaggio. Insomma, non solo bisogna qualificare il polo industriale del porto e contemperarlo con la sua funzione turistica, ma bisogna occuparsi anche del circondario e la viabilità per raggiungere il porto al momento è piuttosto critica. In quest'altra pagina vediamo invece la foto dell'assessore al turismo Etienne Lucarelli che rilascia una intervista un po' a tutto campo, detta la linea politica. L'assessore alle attività economiche interviene sui tempi caldi del dibattito cittadino, rivendica non vengo dai partiti, il civismo vince. E di cosa parla l'assessore alle attività economiche? Parla per esempio della variante di Gimarra, per cui è favore, però mitigata nel suo impatto ambientale. E poi parla anche della crescita economica e sociale della città. Racconta la sua fano, rilancia il ruolo appunto delle liste civiche. Abbiamo qui diversi temi che Lucarelli affronta. Nuovo gruppo in consiglio, Naziazione più Europa. Anche il resto del Carlino evidenzia la nascita di questo nuovo gruppo consigliare. Qui vediamo alcuni esponenti che ieri hanno presentato l'iniziativa nella Sala della Concordia. Sconti tari per 900 attività. Rispondono in 45. C'è stata una risposta un po' numerosa per quanto riguarda gli aiuti che l'amministrazione comunale dà al commercio, mitigando l'impatto dei lattari. Con la proroga del bando si cerca di arrivare almeno a 120 richieste, al momento sono 45, ma 60 mila euro dei 300 mila previsti sono rimasti a momento in cassa. Insomma, poi tutta questa emergenza che si solleva alla fine di conti non c'è, perché molte ditte non hanno fatto richiesta appunto di questi sostegni. Per la riqualificazione urbana sono pronti 8 milioni. Cosa ne faremo? Lo dice appunto il resto del Carlino. Con questi 8 milioni si riqualificherà l'ex Jabi, l'ex Agip per 400 mila euro, il secondo stralcio del centro civico di Gimarra per 500 mila euro, piazza Andrea Costa per 1 milione e 400 mila euro e poi il secondo stralcio del parco urbano insieme alla casa del parco, 400 mila euro, il waterfront di Torrette e Ponte Sasso, un milione e mezzo e poi quello di Sassonia per 2 milioni e mezzo. È il primo stralcio dell'acciclabile Fano-Bellocchi per 950 mila euro. Ebbene, sono risorse importanti che consentiranno all'amministrazione di risolvere diversi problemi. Ponte Sasso e Marotta con l'acqua alla gola, nessun risarcimento, l'abbiamo visto anche sulle Corriere Adriatico l'altro giorno, nessun risarcimento per i danni subiti dai cittadini dopo il diluvio del 16 novembre. Non verrà riconosciuto lo stato di emergenza nazionale, si spera almeno che venga riconosciuto quello a livello regionale, quindi dovrebbe essere la Regione a dare un po' di sostegno a chi è stato danneggiato da questa grande perturbazione atmosferica. Alto là del Comitato, nuovi rischi di allegamenti con le barriere ferroviarie antirumore. E queste barriere, che dovrebbero isolare un po' la ferrovia lungo la costa, destano ancora molte, molte preoccupazioni, anche dal punto di vista ambientale, perché sì, se da una parte isolano i rumori, attenuano i rumori, dall'altra invece possono creare problemi per gli allargamenti. San Costanza aumenta l'IRPEF e solleva l'ira dei sindacati. CGL e CIS l'accusano in un momento di crisi una scelta fuori dalla realtà, affermano appunto i rappresentanti dei lavoratori. Vediamo un attimo il resto del carlino sulla pagina di Pesaro. Tamponi agli assintomatici, anzi no, screening agli studenti. Che pasticcio! Ebbene, qui si parla di una vicenda che caratterizza un po' anche tutta la regione Marche. È un cortocircuito tra regione e l'Asur, con l'azienda sanitaria costretta a correggersi tre volte per seguire le indicazioni. Biancani e Vitri, due consiglieri regionali del Partito Democratico, dicono che non sanno di che cosa parlano, fanno fare il test a chi è già tracciato. Insomma c'è ancora molta confusione e anche del pressapochismo per quanto riguarda. Ma del resto poi le cose cambiano tutti i giorni ed è difficile prendere una decisione che duri per duri e sia indice di stabilità. San Salvatore apre l'ambulatorio antiricoveri. Ai pazienti la nuova pillola e poi a casa. Sarà somministrato anche il Remdesivir, questa pillola che dovrebbe curare i malati di Covid all'inizio dei primi sintomi, ma soprattutto coloro che sono particolarmente a rischio, appunto a loro solo verrà concessa questa cura. Definita la strategia dell'azienda Marche Nord, prima in regione a percorrere questa strada. Marche Nord, appunto, la prima a livello regionale. Le cure saranno rivolte a persone con sintomi lievi, ma che presentano fattori di rischio notevoli e quindi procedono anche le cure. Green Pass rafforzato per i giovani atleti. Le società siamo pronte, ma quante difficoltà stiamo affrontando. VL e VIS e le altre squadre della Galassia Cittadina si preparano alle novità in vigore dal 10 gennaio prossimo. Sono disposizioni severe quelle che entreranno in vigore negli impianti a partire dal 10 gennaio. Si tratta di disposizioni che poi verranno, se non osservate, punite severamente, con multe da 400 a 1.000 euro. Quindi attenzione. 50.000 FFP2 a 75 centesimi. Le FFP2 sono le mascherine che proteggono di più rispetto a quelle chirurgiche dalla espansione dell'epidemia. Nelle farmacie comunali si parte oggi. Il prezzo è calmierato. Scatta subito la vendita delle mascherine a prezzi calmierati dopo l'accordo con il generale figliuolo Pieri dell'ASPES e dell'ASSOFARM dice una decisione che abbiamo subito condiviso e qui ne abbiamo ampia disponibilità. Quindi non c'è carenza di mascherine. Caccia ai furbetti del Green Pass. Ne sono stati mascherati 149. È il bilancio appunto della Prefettura. E poi abbiamo una pagina dedicata appunto alla morte di questo vigile del fuoco Alex Eusepi che è scomparso ad una età giovanissima. Insomma aveva poco più di 30 anni. Fibra veloce. Qui non prendono i cellulari. CNA da Bordoni è una strigliata alla politica. È uno degli argomenti che sono stati trattati nel corso appunto della conferenza stampa di consuntivo per il 2021 tracciata dalla CNA. Siamo in conclusione. Abbiamo solo il tempo per un titolo di sport. Quattro positivi alla vis. Gavazzi dice non entriamo nel panico. Due giocatori e altrettanti del gruppo squadra contagiati. Il capitano osservare le regole e continuare a lavorare facendosi trovare pronti. Mentre per quanto riguarda il Fano Calcio e anche qui igrava l'incagni l'incognita Covid. Oggi la Lega decide lo stop del campionato. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 mentre per le notizie del giorno l'appuntamento è questa sera alle ore 20.30 nel TG di Fano TV. Questo è tutto. Buona giornata. Grazie a tutti.